Un'iniziativa che intende rappresentare un momento di solidarietà e di vicinanza ai commercianti e alle famiglie bisognose della nostra comunità. Così Don Giacchino Lanzillo, parroco di Sant'Alfonso, ha spiegato nel corso della conferenza stampa tenuta al comune di Cava dei Tirreni il senso della Notte del Rione, che si terrà il prossimo sabato 21 dicembre nel Rione Filangiri. Una boccata d'ossigeno che la parrocchia desidera dare ai commercianti della famosa via Filangiri. Ad aprire l'evento sarà la processione di Sant'Alfonso con il bambinello Gesù davanti, al quale proprio il Santo ha composto il suo celebre Tu scendi dalle stelle. Durante questa notte inizierà innanzitutto con la preghiera, Sant'Alfonso annuncerà l'avvento del Natale, famoso perché ha composto il Tu scendi dalle stelle. E poi il via alle attività, i suoni e i balli ci saranno i tamborari, un gruppo folk che verrà da Maiori, gli Scugnizi, un'esibizione canora di Gianni Bonocore. Alla fine la notte si concluderà col concerto di Nando Mariano. La parrocchia confida nelle offerte di quanti parteciperanno perché il ricavato andrà alle famiglie bisognose attraverso la Caritas per il pagamento dei tributi. A partire da quella della spazzatura, le bollette dei poveri, non dei vecchi.